Interrogazione di SEL sul gasdotto TAP al Ministro dell'Ambiente Galletti che in aula alla Camera ha illustrato le motivazioni che hanno portato al Via Libera la realizzazione dell'infrastruttura. Il Governo ha precisato il Ministro, ha tenuto conto delle 58 prescrizioni dettate dalla competente soprintendenza. Le criticità sollevate dal Ministro dei Beni Culturali ha detto sono superate dal decreto Via. Attraverso un quadro prescrittivo severo e circostanziato reca tutte le garanzie per una realizzazione compatibile del progetto che tengono conto sia delle osservazioni di natura non prettamente paesaggistica, quali attraversamento della fascia costiera, interferenze con la falda acquifera, caratteristiche geologiche dell'area, sia gli aspetti paesaggistici caratterizzanti quali uliveti, muretti a secco, presenza diffusa di paiare e affioramenti rocciosi. Sui ritardi nella definizione della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa invece al potenziamento infrastrutturale dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia, il Ministro ha risposto ad un'interrogazione dell'Orevole Di Gioia. Da ultimo il 6 settembre scorso la società aeroporto di Puglia, su delega dell'Enac, ha fornito ulteriore documentazione integrativa sullo studio di impatto ambientale. Ad oggi non è ancora pervenuto il parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo necessarie alle emanazioni del provvedimento di via. Ribadisco che è obiettivo di questo Ministero ad arrivare a una definizione completa in tempi brevi.